il ma per me la plan non mi hanno per te ho fatto un pazzo uomo per questo coppia oddio mazzotta benedetto mazzotta posto l'uomo fai sei morto il suo posto attendo la bomba l'uomo un po' scusa che utilità quando arriva e per paolo pure per paolo assimiglia vaffanculo ero bloccato per i miei due piccoli oppure io dico così ma si bloccava la mente si bloccava la mente atteggiare un'economia dell'anno atteggiando in giro paramo mi sono cascato mi ame da neve sta fermo stavo fermo per favore daniele incontro e di voi adesso devo morire un'altra volta perchè devo morire un'altra volta guarda lato stavo e allora mia che faccia brutto non è possibile non è possibile 2 hp guarda l'avanto 2 computer cioè per favore troia sono salito il risotto del polo d'avanti fatto bene ciao l'uomo guarda paolo ne ho tre po' ok e quello che è un po' cristo il nero e per l'ultima infatti la ritorna c'è un po' di prezzo ma come abbia la partizia di sandi ho fatto la daniele che coglione faglito con il morto però la bomba la messa io non c'è più c'è più il pacco collette paolo si è paolo poi è morto la sita è morto quando ha capito attenna a meno e dottor non esplode ammina con la pagina mano 4 per un altro gesto un nuovo ma dopo per un canto un treno in città ma che ci si fa un metà cucina a tecora e non posso vedere da voi, ricominciato è giusto quella mira da... non so da quanto tempo porta alla daniele e ti ammazzare il paolo vieni vieni qua casca per me non vi la mamma se non lo sa come, lui non ci sapevano è giusto è giusto ma non si sapevano, non lo sapevano e non ci credo è giusto non lo sapevano non è giusto non sono saranisi no ora mi dobbiamo grazie massimo quando io un buon po ciao luca si è buttata la bomba per il peggio insomma io ea pò pò scusa pietro no vostro un buon anno con il noto torna pietro attento che sta arrivando per mordona tutta dura metto 4 oltre lecce non vedi quanto cazzo non bello inizierò il giorno dopo il volo e di volare qui inizio padre luigi ottengur buona bianco buca via ognuno scoglionato vabbò con due minuti e cui ora è morto e' morto come muore e' direttamente un po' poi attento per poco c'è un po' ammazzato e' c'è obbordato riemo premo prende il pistone amma vison globulato con no ma fa cosa per paolo 4 ecco adesso lo fai da brentino uccide vengo un po' non avevo una tappi un'ambiente con il compito dell'hp mario c'era un po' che c'è un peccato c'è un po' oltre ma porca di nobile per quanto riguarda il suo non va bene scontato cazzi fallito che rimettere le bombella che mette le mine bombate forca funtana daniele non ha fatto pure i fasi guadagnoli tutto tutto oh yeah comprata a discount un po ok senza mine ho trovato bello sicuro la dinamite 1 ho freccato la kill il culo al volo zitto 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 no 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 ma non è come un po' si tratta ma come muore tutto come buono e che cazzo dvd ciao come 10 salto sopra ma perchè esplodono se non le prendo ora nemmeno le registra. bar di merda e ora è quello che non mi dica bambino il mio amore per me no non è vero per partendo le bombe non girano no dalle k no la città la città daniele è morto la cassa nera oh yeah no un grado lascia da morto serio bella mi piace m passo alla larga della bomba e muore comunque ok la ptada che era salia lì la mia e un'altra volta non ti farà ammazzare che l'ultimo kill c'è un ciclo di assisto ansi prendiamoli da dietro e si fa uccidere per primo va a finire sicuro guarda la volta ma come muore ma arriva terminato da ora io mi faccio ammazzare cascato così mezzo morto siamo morti mamma io ho convinto che vuoi